La comunità di Laurino, piccolo paese del Cilento, piange la scomparsa di un giovane ventottenne del posto. L'uomo nella giornata di ieri è stato ritrovato privo di vita a fare l'amara scoperta il padre. Il ragazzo si è impiccato in un podere rurale presso un casolare di campagna. Il ventottenne era rientrato pochi giorni fa dalla Francia dove viveva e lavorava, pare, secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non avesse retto la fine del rapporto con la moglie, una donna di nazionalità indiana. Il ragazzo era molto conosciuto e stimato da tutti, sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri per fare luce sul gesto estremo. L'ennesimo caso suicida che lascia ancora una volta sgomenta l'intera provincia di Salerno.